Bene, cari amici, bentornati. Nuova puntata del nostro ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi. Oggi cominceremo a parlare, se Dio vuole, di un altro tema molto bello e molto importante che è il purgatorio. Sappiamo che il purgatorio formalmente non rientra, diciamo così, tra i quattro nuovissimi, perché i quattro nuovissimi si enumerano e si nominano dicendo morte, giudizio, che abbiamo già visto, inferno e paradiso. Però evidentemente per estensione bisogna introdurre in questo discorso anche il purgatorio, pur essendo uno stato intermedio e vedremo poi alla fine, dovremo introdurre anche un appendice per il limbo, precisando subito che allo stato attuale, almeno il purgatorio, è un dogma di fede, il limbo no. Il limbo è un valore, da un punto di vista magisteriale, di dottrina comune e variamente proposta, anche se in termini non sempre chiari, e a quanto pare momentaneamente accantonata, ma non evidentemente soppressa né negata del tutto, almeno dei documenti avente proprio ufficiale valore magisteriale, perché questo creerebbe non pochi problemi, come avremo modo a suo tempo di vedere. Per ora ci occupiamo del purgatorio. Il purgatorio è stato un dogma di fede ampiamente contestato sia dal mondo ortodosso, quindi dal mondo dell'ortodossia, sia ancora di più dal mondo della riforma protestante. Questi ultimi, soprattutto sulla base del fatto, sapete che nell'ambito riformato c'è una sorta di sacro scrittura latria, che per carità le sacre scritture sono oggetto di venerazione assoluta, anche da parte evidentemente nostra, e sono evidentemente la fonte prima e primaria della rivelazione. Tuttavia si tratta di una fonte anch'essa mediata a vari livelli, appunto primo dal problema dell'ispirazione della sacra scrittura, e quindi dal come gli autori sagrano scritto, e appunto secondo dal fatto che i testi stessi accolti come canonici sono appunto accolti come canonici perché è la Chiesa che ha riconosciuto come tale. Noi quando proclamiamo la liturgia nell'assemblea, diciamo parola di Dio, perché è la Chiesa che ha riconosciuto quel testo come ispirato. Se leggiamo il protovangelo di Giacomo non diremo parola di Dio perché appunto è un vangelo apocrifo, quindi non essendo ispirato non si può definire parola di Dio, anche se contiene delle cose vere. No, per esempio non vorrei dire una sciocchezza però che i genitori della Madonna si chiamino Gioacchino ed Anna credo che sia proprio detto nel protovangelo di Giacomo, comunque sia in uno stritto apocrifo, no? E vedremo che gli ambiti biblici che possono far pensare al purgatorio in maniera peraltro non immediata ma attraverso un'inferenza logica quindi che si evinca dal testo e dal contesto sono pochi, sono scarni. Questo non deve farci grandissimo stupore, questo aumentano i cattolici. Perché come dico sempre, per esempio noi sappiamo che il primo mistero della nostra fede è l'unità e la trinità di Dio, ma se uno cerca nella Bibbia trinità non lo trova, non lo trova il termine trinità, non trova Santissima Trinità. Trova però gli elementi per comprendere che Dio è uno nella natura, è trino nelle persone, chiaramente elementi che poi bisogna rielaborare in un certo modo, per averne una corretta e corretta interpretazione. Ora andiamo subito a vedere come sempre i brani biblici, però non senza aver ribadito che la Sacra Scrittura certamente è la fonte primaria della rivelazione, ma almeno per noi cattolici il ruolo del Magistero autentico è assolutamente importante, decisivo e ringraziamo che sia così, ma chi nega questo, ripeto, come avviene in ambito protestante, deve dire, bisogna anche dire, chi stabilisce quali sono i testi divinamente ispirati? Chi? Lo stabilisci tu? stabilisce l'arbitrio del singolo? Anche tutto quanto il problema del libero esame, che è proprio del mondo protestante, no? Libero esame che, cioè, specialmente su un testo come la Sacra Scrittura, mi si chiari, cioè, gli fai dire tutto il contrario di tutto, anche perché ci si trova tutto il contrario di tutto, quindi si aprono problematiche molto molto ampie, qui dentro il mondo della fede, bisogna stare molto attenti. Nella sana tradizione cattolica, almeno fino a quando si è per la maggioranza rimasti dentro certi canoni acquisiti ormai dalla sapienza bimillenaria della Chiesa, tanti equivoci e tante ambiguità erano assolutamente bandite, perché le autorità della Chiesa hanno sempre compreso essere loro dovere grave adempiere alla missione, appunto, affidatagli dal nostro Signore Gesù Cristo, che è quella di fare luce e chiarezza in mezzo a tante possibili e variegate interpretazioni. Io personalmente ho sempre cercato di concepire il mio ministero sacerdotale affidato alla mia povera persona dal Signore per sua volontà, a quanto pare, ma in maniera del tutto, a persona del tutto inadeguata, però ho cercato sempre di comprendere che io sono stato costituito sacerdote per aiutare le persone, per aiutare a fare chiarezza, non per complicargli la vita, ma chiarezza che a volte si paga, perché essere troppo chiaro, specialmente quando si parla di argomentazioni oggi definite politicamente scorrette e questo non è senza conseguenze, ma non fa niente, ecco perché c'è anche la dimensione evangelica, nel senso che, come dice Gesù, quando dice che chi può capire capisca, chi ha orecchi per intendere intende, ci fa comprendere bene che bisogna fare attenzione primariamente alla disposizione dei cuori, quando un cuore è indisposto, se non voglio dire la verità, non è che se tu gliela addolcisci o gliela annacqui col politicamente corretto l'aiuti, anzi, d'accordo, e a volte come dire lo scandalo, ecco quindi la provocazione e quindi suscitare anche certe reazioni negli ascoltatori indisposti, ecco si procura certamente delle conseguenze, però svolge anche una funzione evidentemente medicinal-pedagogica, no? Allora, andiamo a vedere questi brani biblici che, diciamo così, supportano, puntellano un pochino il discorso su questa realtà, sul purgatore, cominciando dal celebre brano, l'abbiamo sentito non molto tempo fa, riprogrammato nella liturgia, del secondo libro dei Maccabèi. Si tratta, adesso leggerò il testo, di un sacrificio che Giuda e i suoi offrirono, dopo aver rinvenuto a seguito di una grande battaglia contro le truppe di Gorgia, invasore, alcuni loro confratelli caduti in guerra e dopo che si accorsero che erano caduti in guerra, non casualmente, ma perché li ritrovarono sotto la tunica alcuni idoli. E quindi andiamo a leggere il brano e vediamo un pochino che cosa succede, no? Giuda radunò l'esercito e venne, sto leggendo il secondo libro dei Maccabèi, 1238-45. Radunò l'esercito e venne alla città di Odolammr, poiché si compieva la settimana, si purificarono secondo l'uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri per deporli con i loro parenti e nei sepolcri di famiglia. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei. Fu perciò tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Cominciamo a notare questo passaggio, no? perché sono caduti in guerra, perché c'erano degli idoli, quindi erano usciti fuori, diciamo così, dalla benedizione divina. Ci sarebbe molto da riflettere, no? Su questo passaggio. Questo concetto nella Sagra Scrittura varie volte viene evidenziato. Quando succede qualche guaio di questo genere, la prima domanda da farsi è, mi sono messo in condizioni di perdere l'amicizia con Dio e quindi la sua protezione? Punto interrogativo. Perciò tutti benedicendo l'operato di Dio giusto giudice che rende palesi le cose occulte, sto riprendendo la lettura, ricorsero alla preghiera supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda sortò tutti quelli del popolo a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto per il peccato dei caduti. Poi, fatto una colletta, con tanto attesta per circa duemila dracme d'argento, lo inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Ora, che c'entra questo brano con il purgatorio? C'entra perché qui viene offerto un sacrificio espiatorio per i morti, con una colletta e con un'offerta lasciata. Sembra quasi di vedere qui, senza neanche troppe forzature, una prefigurazione di quello che noi adesso facciamo con le sante messe, no? Cosa facciamo con le sante messe? Offriamo un sacrificio espiatorio, che è il sacrificio di Cristo sulla croce, che si attua sull'altare, a favore dei morti e lasciamo un'offerta per farla celebrare, no? Questo perché? Perché si spera la salvezza di coloro per i quali viene offerto, perché per chi sta in paradiso non occorre, per chi sta in inferno non occorre, occorre per chi sta in purgatorio. Ora, è vero che c'è nel brano biblico anche l'elemento dell'impetrare post-mortem attraverso il sacrificio e il perdono dei peccati, no? Noi nella pienezza della rivelazione sappiamo evidentemente che la sorte post-mortem, cioè quella che ci coglie nel momento della morte, come abbiamo già visto, non è mutabile. Se sono salvo sono salvo, se sono dannato sono dannato, non è che un dannato può diventare salvo dopo la morte. Ecco, però sapete poi anche quando uno si trova in queste condizioni, cioè questi avevano commesso un peccato mortale, avevano certamente commesso un peccato grave, però sappiamo sempre bene che il giudizio ultimo sulla mortalità del peccato spetta a Dio, perché un peccato per essere mortale mortale non basta che sia, passiamo ogni tanto un po' di carichismo, vertente su materia grave, ma occorre che sia stato commesso con piena avvertenza e deliberato consenso. Il giudizio perfetto su questi due aspetti c'era soltanto nostro Signore, lo capiamo, no? Noi non possiamo sapere se, come, quanto una persona fosse veramente consapevole di quello che stava facendo e quanto il suo consenso sia stato il tasso di volontarietà lucida data a quell'atto peccaminoso. Questo noi non lo possiamo sapere. È chiaro che la Chiesa del Tempo ha insegnato che, non essendo gli esseri umani trattabili da ebeti, ordinariamente la volontarietà è presunta, quindi bisogna dimostrare il contrario, così come se si tratta di cose grossolane, insomma, abbastanza evidenti, quindi l'avvertenza almeno un po' è presunta. Non è che uno può dire o bestemmiato non sapevo che era una cosa grave, no? Ecco, tanto per fare un esempio. Però il giudizio ultimo aspetto soltanto al nostro Signore. Ci sono alcune rivelazioni private, adesso non voglio fare nomi né della fonte della rivelazione privata né tanto meno del contenuto della rivelazione che possono lasciare un pochino sconvolti, cioè nel senso che se si sente che una persona che è stata notoriamente da un punto di vista oggettivo un peccatore non è dannata, uno potrebbe destabilizzarsi un po', no? Ma non si destabilizza se considera queste cose. Ed ecco perché Gesù nel Vangelo è stato tassativo e categorico nel dire non giudicate. Non giudicate le persone, ovviamente, perché i comportamenti oggettivi sono e devono essere oggetto di giudizio, perché altrove nel Vangelo Gesù dice non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate corretto giudizio. E quando, volendo stimolare il cervello degli apostoli, dice fate l'attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei, quelli gli dicono ma non abbiamo il pane? Gesù gli risponde ma siete così privi di intelletto? Poi ho detto di guardarvi dal lievito dei farisei. Quindi non è che Gesù sta evidentemente fomentando negli apostoli di fare il contrario di quello che lui ha detto, è ordinato, cioè quindi di giudicarli, ma oggettivamente in tanti farisei del tempo di Gesù c'era un'ipocrisia grossolana e quindi guardatevi dal lievito dei farisei significa non siate ipocriti come loro, fermo restando che poi il giudizio sulle loro persone spetta a me solo e a Dio solo. Con questo chiudiamo questa prima parentesi per comprendere questi remoti fondamenti biblici. Andiamo a vedere un altro brano che è tratto stavolta dal Vangelo secondo San Matteo. Siamo al capitolo 12, i versetti 31-32. È il famoso peccato contro lo Spirito Santo. Sentiamo che cosa dice Gesù. Perciò io vi dico qualunque peccato è bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parlerà male del figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo Spirito non gli sarà perdonata attenzione né in questo secolo né in quello futuro. Capite? Quindi anche qui il Signore fa riferimento a dei peccati che potrebbero essere rimessi nel secolo futuro. Mentre quello contro lo Spirito Santo non è rimesso né nel secolo presente né nel secolo futuro. Quindi se nel secolo futuro che significa? Significa che c'è una situazione di non beatitudine, ma nemmeno di dannazione, ma che si trova appunto ad un livello differente. sapete che sulla base di questo passaggio peraltro, anticamente, nei primi secoli della Chiesa, come dire, si enuclearono una serie di peccati ritenuti non perdonabili in questo mondo per la loro particolare gravità. E pensate che poi chiaramente questa dottrina andò svanendo e oggi si ritiene che tutti quanti i peccati sono remissibili in questa vita. Anche lo dico ogni tanto perché intanto mi arrivano ancora le mail su questi peccati contro lo Spirito Santo che tutti quanti si sconvolgono. I peccati contro lo Spirito Santo non è che Gesù non sta dicendo che se uno lo commette un peccato contro lo Spirito Santo è spacciato per sempre. Ma i peccati contro lo Spirito Santo, come ha spiegato bene Sant'Ommaso d'Aquino e quindi poi la Chiesa l'ha ratificato, si tratta di condotte di situazioni che sono soggettivamente imperdonabili, cioè non è che Dio non ha il potere di farlo, ma sono soggettivamente imperdonabili perché privano la persona delle disposizioni per ottenere il perdono. Cioè la mettono in una condizione che fino a quando perdura quello stato, appunto individuato da quel certo tipo di peccato, tu sei insuscettibile di ricevere la grazia della salvezza. Perché se una persona per esempio presume di salvarsi senza meriti e non mette in discussione questa sua presunzione, nostro Signore certamente gli manderà degli input per fargliela saltare, ma se fino alla fine continuerà a pensare questo qui e quindi non avrà come doveroso praticato quelle buone opere che si devono e che si vogliono fare per andare in paradiso, è certamente che alla fine andrà contro la dannazione, sicuro no? Ecco, tanto per fare qualche applicazione pratica. Però non stiamo parlando del peccato contro lo Spirito Santo, questo brano ci interessava per comprendere di nuovo, ecco, insieme con il libro dei Maccabèi, questa importanza dell'offrire preghiere e sacrifici per quei morti che non sono né beati, perché non lo meritano, e né dannati. Ancora, primo Corinzi, 3, 11, 15. Andate amici, se mi posso mettere un'altra parentesi, questi passaggi, quindi questi brani, oppure queste verità di fede così delicate che appunto la loro formazione, la loro comprensione richiede dei passaggi laboriosi per poterci arrivare, anche sulla base dei testi biblici, magari ci aiuti un po' nel senso che ci metta in condizioni di ricordare sempre che su questi argomenti occorre sempre estrema, estrema, estrema cautela, pacatezza, pazienza, ecco. Allora, abbiamo un brano di San Paolo della prima lettera ai Corinzi, anche questo, no? Che indirettamente attraverso, tra l'altro, un linguaggio anche simbolico, metaforico, San Paolo spiega alcune cose. Questo è uno dei fondamenti, diciamo, più forti per quanto riguarda l'esistenza del purgatorio, per quanto riguarda la Sagra Scrittura. Allora, leggo il testo, siamo, primo Corinzi, capitolo terzo, versetti 11, 15. Si legge, infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento esisterà, costruirne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Ora è chiaro, adesso non mi metterò a fare le esegesi di questo brano perché andremo molto, molto lontano e molto al di là, no? L'espressione fondamentale è evidentemente l'ultima, no? Se l'opera finirà bruciata sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Quindi, sapete che riguardo questo fuoco, no? Perché ci sono vari fuochi. Lo Spirito Santo, amici miei, si manifestò come fiammelle di fuoco. In Paradiso c'è un fuoco, tra virgolette. E' certo che c'è il fuoco, c'è il fuoco dell'amore di Dio. Altro che fuoco, c'è incendio. Solo che quando uno è beato, quel fuoco viene percepito come fuoco delizioso, come fuoco beatificante, perché è il fuoco dell'amore. Ma se una persona non è già perfettamente purificata, quel fuoco non è percepito semplicemente come gradevole, ma appunto è percepito come purificante. Ecco il dolore del fuoco, il cosiddetto fuoco del purgatorio. O poi per i dannati, quello stesso fuoco è percepito come assolutamente insopportabile. Il fuoco dell'inferno, no? Va bene, queste sono piccole suggestioni. È chiaro che noi su questi argomenti, che sono poi accessori nei confronti delle verità di fede, camminiamo un pochino come attentoni sulla base di queste suggestioni, no? Teniamo sempre presente che, come la Chiesa sa e insegna, le verità di fede sono sempre molto puntuali e molto asettiche. Ecco, i dettagli poi e le specificazioni a cui si può arrivare, c'è una volta ragionando e riflettendo un po', altre volte questo lo fanno alcune rivelazioni private, che hanno proprio il compito di, uno dei compiti è di puntualizzare, specificare meglio una certa verità di fede, senza evidentemente crearla, perché non si crea una verità di fede sulla base delle relazioni private, ma solo di quelle pubbliche. Ecco, però si capisce un pochino meglio. Questi sono i testi principali, come vediamo, no? Sono testi molto, molto indiretti. C'è anche un passaggio della prima lettera di San Pietro, no? Il versetto 7, il valore della vostra fede è molto più prezioso dell'ora, che pur destinata a perire tuttavia, si prova col fuoco, la prova del fuoco, no? Torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo, no? Ora, da un punto di vista invece teologico, dottrinale, l'elaborazione del purgatorio comincia in età patristica, precisamente nel III secolo, con un grande padre della Chiesa, il martire, tra l'altro, che è San Cipriano. E qual è? Allora, teniamo presente che siamo in un contesto dei primi, di quella che un tempo si chiamava la riconciliazione ecclesiastica, per quanto riguarda il sacramento della penitenza, cioè c'era un, l'ho detto altre volte, il sacramento della penitenza è sempre lo stesso sacramento, che però ha avuto diverse forme di celebrazione nel corso della storia. La più antica è la cosiddetta penitenza pubblica, cioè non c'è mai stata la confessione pubblica delle corne, mai. Ma nel senso che si andava dal vescovo, che era l'unico ministro di questo sacramento, ecco perché, lo so pure io, oggi un sacerdote, quasi nessuno lo sa, diventa prete, ma appena diventato prete vuol dire alla messa, ma non può confessare, fino a quando non riceve dal vescovo la facoltà di ascoltare le confessioni. Questo è un retaggio, quindi è una reminiscenza di questa arcaica disciplina che riservava solo al vescovo la trattazione dei casi, dei peccatori post-battesimali. Perché? Perché, questo ci dovrebbe fare il mettere, commettere un peccato grave, cioè che ti toglie dalla comunione con la Chiesa, perché un peccato grave, sapete che oggi ci sono tutti i canti spaventati dalle scomuniche, ma tra virgolette chiaramente, perché poi la scomunica è diventata nel corso della storia una sanzione canonica estrema che può essere applicata, comminata, oppure conferita a rate sentenze, cioè per il fatto stesso che commetti un peccato molto grave e proprio per far capire la gravità di una certa colpa. Ma il problema è che se tu fai un peccato mortale, tu ti auto scomunichi, perché tu non sei più né in comunione con Dio e nemmeno in comunione con la Chiesa, tu sei fuori, tanto è vero che non puoi fare, cosa insegna il Catechismo, fare un peccato mortale e non puoi fare la comunione sacramentale, non lo puoi fare. E secondo qualche autore non è una cosa del tutto ballerina, ma manco quella spirituale, perché come fai ad unirti anche spiritualmente al nostro Signore Gesù Cristo se la tua anima ne è separata col peccato mortale. No? Allora si andava dal vescovo perché diceva figlio mio che hai fatto? Uno raccontava quello che aveva fatto e riceveva una penitenza che ti ha ricordato per tutta la vita, una sola volta, veniva praticato all'inizio, nelle prime forme, tu hai un bonus post-battesimale, uno, quindi sta attento a quando te lo giochi, perché dopo la penitenza pubblica che ricevi una volta sola, non ti venisse in mente di fare un altro peccato perché sennò poi ecco, abbiamo finito il bonus. Era così, amici miei, quindi si può prendere qualunque manuale di liturgia, nessuno può contestarmi legittimamente a una cosa di questo genere, la dico, sapete, tutte le mie cose sono pubbliche, se stessi dicendo una sciocchezza o una corbelleria, sicuramente verrebbero presi provvedimenti nei miei confronti, dicendo, che dice sto parlando qua, che va a dire insegnando in giro queste cose, così non è perché questa era la disciplina della Chiesa, no? Allora che cosa dice San Cipriano? Questa era una premessa necessaria, esiste un reato di pena, espressione virgolettata perché è la sua, anche dopo la riconciliazione ecclesiastica, se la penitenza non fosse stata piena, cioè, se tu sei andato a fare la penitenza pubblica, il vescovo ha detto fate un anno di digiuno a pane e acqua, perché questa era una penitenza che stava un tempo, no? Però, davanti a Dio per espiare quel peccato ce ne volevano tre diani di digiuno a pane e acqua, ci supponiamo, quindi un anno è poco, che cosa succede? Succede che se muori martire il sangue e il martirio estingue tutto e paga tutto, se non muori martire eh, questa, questo reato di pena, quindi questa penitenza non piena, si estinguerà con il fuoco della purificazione, dopo la morte, ignis purificazioni, esloghiamo, questa è l'epistola 55 di San Cipriano. Adesso fa eco un altro grandissimo padre della chiesa, uno dei quattro dottori della chiesa latina, che è Sant'Agostino, che nel Decipitate Dei scrive testualmente che le anime devono passare per un fuoco purificatore, qui ignis purificatorius, quindi ignis purificazioni, se abbiamo i due sostantivi, letteralmente fuoco di purificazione, questo invece è un fuoco purificatore, qui è aggettivo purificatorius, che concorda con ignis, maschile, prima di poter godere della piena visione beatifica di Dio. Queste testimonianze evidentemente hanno un peso non indifferente, no? Ad esse fece eco qualche secolo più in là, abbiamo San Cipriano nel terzo secolo, Sant'Agostino è a cavallo tra il quarto e il quinto, lui nacque nel 354, l'Attacaste, morì nel 430 e poi addirittura San Gregorio, Magno, che fu papa dal 590 al 604 dopo Cristo che afferma esplicitamente esiste un fuoco purificatore per le colpe leggere come si deduce dal brano che abbiamo letto da Matteo 12,31 quindi fuoco purificatore per le colpe leggere e vediamo adesso prima di passare qui stiamo facendo un pochino il modo con cui oggi si approcciano i problemi, quindi riferimenti biblici, le testimonianze patristiche, poi arriviamo alla scolastica medievale, cioè quindi alla sistematizzazione di San Tommaso, perché? perché San Tommaso fondamentalmente nei suoi scritti cioè se uno li legge non è che si inventa qualcosa, cioè lui elabora anche e dà il suo supporto sempre però partendo dalle posizioni o della saga scrittura o dei grandi padri che mette a confronto e poi dà la sua posizione o la sua lettura peculiare su un certo problema, no? del purgatorio si parla nell'appendice prima della Somma Teologia voi sapete che la Somma Teologia fu un'opera incompleta perché a un certo punto San Tommaso ebbe quella grande famosissima rivelazione mistica per cui comprese tante cose e voleva andare a bruciare tutto e fortuna che Fra Reginaldo l'ha trattenuto dicendo ma che bruci? Fra Reginaldo con cui l'ho visto tutto quello che ho scritto è paglia dice sì sì però teniamoci la paglia perché se qualcuno non vede quello che vedi tu sta paglia è abbastanza preziosa quindi l'ha trattenuto però di fatto la Somma Teologia termina ad un certo punto della terza parte e poi è stata appunto completata aggiungendo in maniera postima il cosiddetto supplemento alla Somma Teologia e poi l'appendice e con l'appendice si parla anche del purgatorio vero però che del purgatorio c'è anche un'altra opera di cui Santo Tommaso ne ha parlato c'è nel commento alle sentenze le famose sentenze di Pietro Lombardo che era un classico medievale cimentarsi con questa impresa quindi commentare le sentenze di questo grande teologo medievale nel quarto volume nella distinzione 21 alla questione 1 e cosa dice Santo Tommaso? dice che il purgatorio senza dubbio esiste e questo lo sappiamo da due da due fonti primo la Sacra Scrittura e cita testualmente secondo Maccabèi 12 43 46 dove si dice di pregare per i defunti la seconda motivazione che è di nuovo una sintesi tra la dottrina di San Gregorio Magno e quella di San Cipriano e di Sant'Agostino è che i peccati veniali quindi le colpe leggere di cui parlava San Gregorio ma quelli mortali per cui non si è fatta sufficiente penitenza quelli di cui parlava San Cipriano quindi quelli che tu hai confessato al vescovo nella penitenza pubblica ma la penitenza non è stata adeguata vanno purificati dopo questa vita e afferma virgolette chi nega il purgatorio va contro l'autorità della Chiesa e incorre in eresia quindi chi nega il purgatorio è eretico ora dato che questi incontri hanno sempre come tutto quello che faccio online un taglio catechetico invito a riflettere i fedeli su un punto chi ci va in purgatorio chi ha commesso dei peccati veniali non sufficientemente purificati ma anche chi ha commesso dei peccati mortali per cui non si è fatta sufficiente penitenza ora noi siamo in un contesto dove le penitenze sacramentali imposte diciamo così questo è il termine tecnico in sede di confessione sacramentale sono quasi tutte meramente simboliche ora è chiaro se uno vede le penitenze l'ho detto questo l'ho detto altre volte però forse è meglio che non faccio troppi riferimenti se uno conoscesse se uno conoscesse le penitenze che venivano imposte nel primo millennio riprenderebbe un colpo riprenderebbe perché erano molto severe così come ci furono alcune posizioni per esempio nell'accenno che ho fatto prima quando Gesù dice che ci sono dei peccati che non saranno perdonati né nel secolo presente né nel secolo futuro ci fu un tempo in cui c'era una posizione abbastanza diffusa dottrinale per cui dice ci sono dei peccati che non si possono rimettere in questa vita ma soltanto li rimetterà Nostro Signore nell'altra condizione che si sia fatta penitenza per tutta la vita elaborarono tre categorie di peccati di questo genere la posta sia l'omicidio e nell'omicidio c'era l'aborto evidentemente compreso e l'adulterio pensate un po' c'è una persona che è adultera si dimentica la comunione sacramentale e deve fare penitenza per tutta la vita quindi dico queste cose evidentemente a modo di provocazione forte però sulla base di fenomeni che si sono verificati nella storia della Chiesa che poi siano stati superati è un altro discorso ma si sono verificati sono stati superati nella prassi ma nel significato però che veicolano non sono stati affatto superati i peccati commessi richiedono espiazione penitenza e non si entra in paradiso se non si si è come dire macchiati anche di una imperfezione piccolissima non purificata questo dobbiamo saperlo lo dico parlo anche contro di me perché non è che non pensate che chi parla sia impeccabilissimo perfettissimo cose di questo genere lo forrei tanto ma non è così quindi per essere consapevoli di questo significa trovare un incentivo a riscoprire a praticare la penitenza e la mortificazione cristiana amici chiari non è la stessa cosa farla oppure non farla c'è tanta gente che ha paura del purgatorio c'è il moglio fare il purgatorio e dico guarda figlio mio se non tu devi fare il purgatorio ti metti in testa che un po' di penitenza in questo mondo lo devi fare se non il purgatorio te lo fai sicuro a 100% quindi nell'ambito dell'uso che dobbiamo avere si spera della nostra intelligenza che il Signore ci ha donato e che ce l'ha donata perché la facciamo la facciamo funzionare e non ce la mettiamo sotto i piedi c'è anche questo aspetto non soltanto dobbiamo pensare di investire questo lo dico sempre l'abbiamo già visto anche parlando dei novissimi noi non siamo stati fatti per questa vita terrena ma quello che avverrà nella vita ultraterrena dipende da quello che ci andiamo costruendo oggi giorno dopo giorno chi sta seguendo per esempio il parallelo ciclo di catechesi su Tenera Amata avrà notato quante volte quest'animo che ha detto guarda cerca di moltiplicare le opere buone nelle opere sante perché se lo fai andrai in un alto grado di gloria in paradiso se non lo fai starai in un grado di gloria a basso come sto io quindi il giusto vive di fede scrive San Paolo noi investiamo su queste cose non è la stessa cosa a credere fermamente che esiste il paradiso e che in paradiso ci sono dei gradi differenti e quindi l'impegno c'è nel profondersi nelle buone opere negli atti di virtù è importante perché mi darà un più alto grado di gloria così come impegnarsi nella penitenza mi farà evitare in tutto e in parte il purgatorio la chiesa questo l'ha sempre pensato infine San Tommaso d'Aquino enuclea le due pene tipiche del purgatorio perché in purgatorio ci sono due pene che tra l'altro sono le stesse di quelle dell'inferno uguali allora uguali evidentemente nella specie non uguali nel modo perché un conto è sentire ricevere queste pene nella consapevolezza di essere salvi e la quasi totalità delle anime del purgatorio salvo qualche rara eccezione adesso poi probabilmente anche per questo per questo argomento come già abbiamo fatto per l'inferno potremmo fare al termine una piccola appendice di natura devozionale perché guardate le liberazioni di santi canonizzati dalla chiesa di missili sul purgatorio sono una montagna e praticamente sulla base di essi io riusci negli anni passati proprio a ricostruire come ha fatto il purgatorio quindi quali sono quantomeno i grandi stadi e i grandi gradi che sono proporzionati anche qui al numero alla gravità delle colpe commesse se non l'ha confessata o non l'ha confessata se ha fatto penitenza se non l'ha fatto penitenza eccetera allora quali sono queste due specie anzitutto la pena del danno che è la privazione della visione beatifica che è sempre la pena più grande per le anime purganti questa è una cosa allucinante questa qui perché come del resto questo vale anche per le anime dannate nel giudizio particolare c'è una conoscenza di Dio molto più profonda che non è la visione beatifica però è una conoscenza molto molto più profonda per cui ti viene una tale voglia un tale desiderio di unirti immediatamente al Signore che non poterlo subito realizzare causa un tormento indicibile è quello per chi conosce per esempio facciamo un altro spot di altre catechesi paralleli che sto facendo che conosce negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta per esempio vedrà che quella cioè era una persona che ha avuto delle esperienze mistiche notevoli straordinarie tra l'altro poi vissute anche con il dono della divina volontà e bastava che Gesù per uno o due giorni non si facesse vivere in modo sapronaturale che questa qui stava come una matta stava isperata stava andando sa soffrire in maniera assolutamente incomprensibile per noi io tante volte commentando ho detto guardate probabilmente noi non ci rendiamo conto basta però leggere un pochino le storie le descrizioni dei grandi dottori mistici della chiesa che sono Santa Teresa e Santa Giovanni della Croce perché a prendere cosa succede perché già quando una persona ha un dono mistico rarissimo che è la visione intellettuale della Santissima Trinità che è una cosa molto 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 forte a quel punto comincia a piangere dalla mattina alla sera e a passare il resto della vita in lacrime supplicando il Signore che portassero il più presto possibile cioè noi stiamo tranquilli e non stiamo come dire desiderando con tutto il cuore soffrendo il momento della morte perché non sappiamo ancora quello che ci aspetta o meglio lo sappiamo semplicemente dalla fede ma se ne avessimo una percezione impazziremmo quindi questa è la pena del danno che per le anime purganti divesse appunto un carattere particolarmente gravoso di un tasso particolarmente gravoso di sofferenza e poi c'è la pena del senso cioè il fuoco del purgatorio e la durata e l'intensità di questo fuoco è proporzionata alla quantità delle colpe alla quantità e alla gravità delle colpe e al loro radicamento nell'anima quindi quanto erano radicate o e poi dottrina di santo maso che è stata fatta propria dalla chiesa che è stata confermata da più di qualche rivelazione privata vedi per esempio madre speranza che la più piccola pena del purgatorio supera qualsiasi pena di questa vita non solo non solo non solo tanto perché cominciamo subito a comprendere alcune cose in purgatorio si soffre molto di più e senza alcun merito cioè tutte le pene del purgatorio diciamo ma mi sono fatto un purgatorio che non me lo ricordo per tutta l'eternità però questo ho sofferto tanto dici beh mi farà anche andare un pochino più in alto in gloria assolutamente no perché tutto quello che si serve in purgatorio non è meritorio perché l'anima non può sottrarsi a quelle cose non c'è la libera volontà cioè tu il purgatorio c'è stai a punto e basta perché il nostro signore lì ti deve mettere perché altrimenti non potrai goderlo quindi non sono meritorie sono più gravi immaginiamo le più grosse pene di questa vita ecco chi è che c'ha paura di soffrire la più piccola pena del purgatorio supera qualsiasi pena di questa vita quindi si soffre di più e senza nessun merito invece se noi facciamo penitenza qui qualunque penitenza fai pure sui flaggelli si soffre di meno molto di meno e in maniera meritoria perché le penitenze e le mortificazioni fatte in questa vita non soltanto espiano le colpe commesse quindi riparano il reato della pena ma ci accrescono i meriti qui tu soffri di meno e non solo il valore delle opere penitenziali compiute appunto esercitando la virtù della penitenza ti procurerà un maggiore grado di gloria e ti farà crescere la grazia anche qui quindi capite figlioli miei cari che a questo punto ci sono delle considerazioni di ordine si potrebbe definire retorico nel senso che sono scontate chi di noi è così folle da dire vabbè chi se ne importa tanto poi ci penserà il purgatorio quindi chi vuole andare a soffrire tanto e senza alcun merito piuttosto che soffrire un po' quindi abbracciando come Gesù ci raccomanda nel Vangelo la nostra croce ogni giorno rinnegando se stessi e prendendo appunto la croce e seguendolo questa è la vita penitenziale che tutti quanti siamo chiamati a compiere a fare certamente nella misura in cui vogliamo ma se non lo facciamo non c'è scampo d'accordo non facciamoci false illusioni per questo che quando io sento dire a qualche celebrazione delle seguie che l'ha volato al cielo questo sta di qua questo sta già in paradiso è un angelo cioè io l'ho sentito veramente di ogni dicono tutti i colori fino a quando stavo dall'altra parte adesso parlo io durante i funerali quindi speriamo di non dire troppe sciocchezze insomma dal pulpito io personalmente faccio sempre attenzione specialmente capite immaginate un parroco oggi lo so per esperienza ho sempre detto io non ho fatto altro da quando sono sacerdotico diciamo che non sono un buon parroco non lo so fare bene però di fatto ho fatto solo quello quindi l'esperienza di ciò che è la vita del parroco l'ho acquisita ma ti si presenta che tu fai un funerale a volte ti arriva la notizia della morte proprio dopo senza che manco abbia voluto far visita far la visita dargli l'olio santo quindi tu sei una persona che non ha mai messo piede in chiesa e poi con il laboratorio te lo pure dicono guarda questo ma come fai andare a dire quello lì dal pulpito chi è volato in cielo ma stiamo scherzando io cerco sempre nella speranza che siano salvi perché c'è sempre la possibilità di sperare anche se temo che non tutti lo siano però speriamo io esorto sempre le persone parlo sempre dei suffraggi degli aiuti da dare l'anima del purgatorio le mesi i sacrifici le visite al cimitero con i sacramentali con l'acqua benedetta con la candela benedetta queste cose qui perché altrimenti quando io muoio certo tutta la gente che si dovesse essere fatta a causa delle mie omissioni o del non dire la verità un purgatorio severissimo è grave ma io non li troverò guarda un po' questo qua perché non me l'ha detto le sentinelle come dice Gesù nella saga scrittura sono costituite perché parlino e i cani sono costituiti perché abbaglino si leggono le prediche di San Gregorio Magno sui cani muti rivolgendosi ai ai vescovi che non adempiono con zelo e dicendo tutta la verità il suo ministero il loro il loro ministero cani muti capaci di abbagliare ecco direi che ci possiamo fermare questa è la prima puntata perché così la prossima volta riprendiamo dalle abbiamo visto diciamo la scrittura e la tradizione la prossima volta vedremo i concili quindi il magistero autentico della chiesa cosa ha detto riguardo l'esistenza del purgatorio possiamo intanto salutarci amici cari io vi do la mia benedizione e io vi benedica la Madonna sempre vi protegga e alla prossima se Dio vuole grazie a tutti grazie a tutti